buongiorno sono Gianluca Agnudi consulente Renault per gruppo Carmeli nella sede di Coccaglio oggi andremo a scoprire questo fantastico Scenic Sport Edition 2 nella colorazione beige d'una tetto nero lo Scenic di cui stiamo parlando monta il 1.5 da 115 cavalli già con additivo Euro 6D è l'allestimento che viene definito il cuore di gamma quindi allestimento intermedio con però tutti i comfort che una macchina deve avere sensori davanti e dietro con telecamera posteriore e come potete vedere Scenic monta in cerchi lega da 20 pollici per quanto riguarda il baule massima la sua capienza addirittura tutta la panca posteriore può scorrere in avanti in modo tale a migliorare la capacità di carico ed eccoci a bordo dello Scenic dotazione di sicurezza già di serie con assistenza al mantenimento della corsia frenata d'emergenza attiva con il riconoscimento dei pedoni abbiamo il navigatore con la cartografia europea clima automatico bizona cruise control limitatore tanto spazio a bordo che vi invito a venire a scoprire se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto oppure chiamocelo 030 77 24 011 i nostri consulenti sono qui ad aspettarvi